Io avrei voluto fare il calciatore, quindi gliene parlo volentieri. Come travaglio sono juventino e ricordo quanti patimenti ci ha fatto vivere in tante partite. Baradona fuori dal campo ha vissuto di eccessi, di errori, ne ha pagato anche spesso tante conseguenze. In campo rimane, non so se il migliore al mondo, se la giocano probabilmente lui e Pelé, rimane agli occhi di tutti noi un talento formidabile che nascono ogni decenni, perché ogni tot decenni rimarrà negli occhi credo a tutti quelli che l'hanno potuto vedere. Ad esempio uno dei gol più belli nella storia del calcio di tutti i tempi, che fu il gol non quello con la mano, ma quell'altro all'Inghilterra dove scartò giocatori come Birilli facendo 70 metri, palla al piede e arrivando persino a scattare il portiere. Quindi un calciatore straordinario che ha dato l'espressione migliore di sé, come veniva detto certamente in campo, una persona poi che al di là di eccessi e errori aveva anche slanci ideali, generosità, però certamente credo rimanga negli occhi a tutti le gesta in pantaloncini corti.